Ciao Marcello, ciao agli amici Top Planet, Top Land, agli amici di Whatsapp, Delio e agli ospiti di Top Planet. E sì, finalmente le nazionali sono finite, si torna finalmente a giocare, senza la Juve è una noia totale, finalmente entriamo nella porta pre-vigilia Juventus-Lazio, prima partita, primo scontro diretto della stagione, contro la quarta, se non vale errato, una squadra che quest'estate meritatamente ci hanno battuti, è una squadra veramente da tenere d'occhio, una bellissima squadra, però noi siamo la Juventus e vogliamo vincere questa partita per non perdere i passi del Napoli, che attualmente è prima, questa domenica vogliamo ritornarci, anche perché ci sono altre partite come appunto il Napoli con la Roma e il derby, e noi dobbiamo approfittare appunto per distaccarsi un po' da queste due inseguitrici. Comunque Marcello, la Juventus femminile, vorrei complimentarmi innanzitutto con la Juventus femminile, che sta facendo veramente bene, sta giocando molto bene, è prima, e speriamo che tutti noi sosteneremo appunto sia maschi che donne, questa è la novità di quest'anno. E poi naturalmente vorrei dire l'ultima cosa, questo scudetto vale più dei sei scudetti vinti, perché è il primo scudetto contro il VAR, perché il VAR è stata creata appunto dal signor Tavec, che è un anti-Juventino ed è anche un interista, e vogliamo rispondere appunto vincendo questo scudetto proprio, il primo scudetto proprio con il VAR. Ora ti saluto Marcello, al prossimo video, naturalmente Juventus-Lagio, fino alla fine forse Juventus, il pianeta e il bianconero. Un abbraccio Marcello.